Cari amici benvenuti sul nostro canale. Oggi siamo qui per condividere delle notizie sconvolgenti riguardo a Terra Amara. Nella splendida Villa Yaman, un nuovo ospite sta per fare il suo ingresso, e la sua presenza sarà destinata a scuotere le fondamenta della tenuta. Umit e Demir, con sguardi carichi di significato, si preparano a rivelare un segreto che lascerà tutti senza parole. Se siete curiosi di scoprire di cosa si tratta, restate con noi fino alla fine, ne varrà sicuramente la pena. Ma prima, entriamo nel cuore di una giornata apparentemente normale, dove Zuleya si trova di fronte a una situazione fuori dall'ordinario. La sua preoccupazione si concentra su Sevda, che sta manifestando sintomi inquietanti, tanto da mettere in allarme proprio Zuleya. Le due donne si dirigono verso l'ospedale, ma Sevda cerca di placare l'ansia di Zuleya, minimizzando i sintomi e affermando che si tratta solo di un piccolo disagio. Con un sorriso, tenta di rassicurare Zuleya, dicendo che non c'è motivo di preoccuparsi troppo, attribuendo tutto alla stanchezza. Tuttavia, Zuleya non è così facilmente convinta. Ha notato il pallore di Sevda, l'angoscia dipinta sul suo volto, la mano che si stringe sul petto e l'arto che sembra aver perso sensibilità. Una misteriosa ombra si sta allungando su questa giornata apparentemente ordinaria, lasciandoci con un brivido di apprensione per ciò che il futuro riserverà a Villa Yaman e ai suoi abitanti. Restate sintonizzati per scoprire cosa succederà in seguito. Zuleya non accetta il tentativo di Sevda di minimizzare la situazione. Con determinazione, le assicura che non può nasconderle nulla, poiché ha visto con i suoi occhi quanto male si sia sentita. La salute è una priorità assoluta e non permetterà che Sevda trascuri il suo benessere, specialmente quando si tratta di una persona così cara. Cariche di ansia e speranza, le due donne si dirigono verso l'ospedale, determinate a scoprire cosa sta realmente accadendo. Sevda continua a insistere sul fatto che sta bene e che ulteriori controlli non sono necessari, ma il destino è in serbo per loro un incontro inaspettato che cambierà tutto. Prima di proseguire, se ti sta piacendo la storia, ti invitiamo a lasciare un mi piace e ad attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Grazie per il tuo sostegno. Nel frattempo, Umi ti indossa il camice bianco e si avvicina alle due donne con un'aria professionale, mostrando grande preoccupazione. Con gentilezza ma fermezza, chiede loro cosa stia accadendo. Il mistero si addensa e le rivelazioni imminenti promettono di sconvolgere ulteriormente la trama di Terra Amara. Restate con noi per scoprire cosa accadrà. Zuleya spiega rapidamente la situazione, sottolineando l'importanza di un controllo medico immediato. Mette in evidenza la gravità dei sintomi che Sevda ha sperimentato, come l'intorpidimento del braccio e la tachicardia, sottolineando che tali segnali non dovrebbero essere sottovalutati. Umit, con la sua vasta esperienza e competenza, comprende immediatamente la serietà della situazione. Essendo uno specialista in cardiologia, sa quanto sia cruciale affrontare prontamente queste questioni. Sevda cerca di mantenere la calma, ma Umit non si lascia ingannare. Con grande professionalità, afferma che è essenziale effettuare esami per escludere qualsiasi problema serio. Zuleya è grata per l'intervento di Umit e insiste affinché Sevda venga visitata il prima possibile. Umit annuisce con determinazione, promettendo di prendersi cura di Sevda e di fare tutto il necessario per garantire la sua salute. Nel suo studio, Umit dimostra la sua professionalità e dedizione mentre si occupa di Sevda. La tensione sale, ma la presenza di Umit offre un barlume di speranza in questo momento di incertezza. La storia di Terra Amara si dipana con nuovi sviluppi intriganti e colpi di scena, e siamo ansiosi di vedere come si evolverà la situazione. Continuate a seguirci per scoprire cosa riserva il destino a questi personaggi affascinanti. Con gesti esperti e sicuri, Umit prende il polso di Sevda, cercando di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni attraverso il semplice tocco. Nel frattempo, pone a Sevda domande dettagliate sui sintomi, cercando di comprendere appieno la situazione. Zuleya osserva con ansia, sperando che tutto si risolva per il meglio. Mentre Umit procede con la sua valutazione, lancia a Zuleya uno sguardo rassicurante, cercando di tranquillizzarla. Dopo un'attenta valutazione e una lunga attesa, Umit torna con i risultati degli esami. Con un sospiro di sollievo, informa le due donne che si tratta solo di una lieve aritmia, niente di più grave. Tuttavia, sottolinea l'importanza di monitorare attentamente la situazione e di adottare le misure necessarie per gestire l'aritmia. La notizia è un grande sollievo per tutti, e finalmente sembra che la tempesta si stia placando. La storia di Terra Amara ci ha portato attraverso un vortice di emozioni e incertezze, ma ora, con il sorriso di Umit e la notizia incoraggiante, c'è speranza per un futuro migliore. Sevda, ti consiglio di prestare attenzione alla tua pressione sanguigna e di adottare una dieta sana, suggerisce Umit con tono premoroso. Sevda sorride dolcemente e ringrazia Umit per la sua preoccupazione, affermando che Zuleya è sempre stata la sua guida quando si tratta di alimentazione equilibrata. Zuleya si assicura sempre che io mangi cibi sani e bilanciati, aggiunge Sevda con gratitudine. Zuleya sorride e annoisce, sottolineando, «La salute viene prima di tutto, e Sevda è come una madre per me. Perciò, faccio sempre del mio meglio per prendermi cura di lei». La solidarietà tra queste due donne è evidente, e il legame che condividono va ben oltre un'amicizia comune. Sanno quanto sia importante prendersi cura l'una dell'altra, e questa connessione è il cuore della famiglia Yaman. Umit, la nuova arrivata a Kukurova, è al centro dell'attenzione in questo momento, e Zuleya è determinata a farle sentire il calore e l'ospitalità tipici della famiglia Yaman. La storia continua a svilupparsi, e la gentilezza e la solidarietà tra i personaggi rimangono un tema centrale in terra amara. Restate con noi per ulteriori emozionanti sviluppi. Mentre il sole scivola lentamente sotto l'orizzonte, Umit riflette sulla gentilezza inaspettata di Zuleya e Sevda. La loro offerta di cena va oltre il semplice dovere di ospitalità. È un segno di amicizia e un desiderio genuino di creare legami. Nella spaziosa cucina della villa, l'aria è pervasa dal profumo di piatti deliziosi. Sanie, con la sua abilità culinaria, sta preparando una cena speciale per l'ospite d'onore. Zuleya entra nella cucina, osservando con approvazione il lavoro svolto, e chiede se tutto è pronto per la serata. Sanie, con un sorriso rassicurante, annuisce e assicura che tutto sarà perfetto. L'atmosfera è carica di aspettativa e anticipazione, mentre i dettagli vengono curati con attenzione. L'arrivo di Cetin e Gulten aggiunge un tocco di allegria all'atmosfera. L'intera famiglia si sta radunando per accogliere Umit nel loro cerchio e condividere un momento speciale insieme. La cena promette di essere un'occasione per legare ancora di più e rafforzare i legami tra tutti i membri della famiglia Yaman. Continuate a seguire la storia di Terra Amara per scoprire come questa serata speciale si svilupperà e quali sorprese riserverà. Mentre Zuleya si dedica a organizzare gli ultimi dettagli per la cena, Gulten si offre volontaria per aiutare, dimostrando la sua dedizione alla famiglia. Cetin, sempre gentiluomo, apprezza la generosa decisione di Gulten e decide di rimanere anche lui per la cena. Zuleya, con un sorriso, si rivolge a Sanie per alcuni consigli finali sulla cena, desiderando che tutto sia perfetto per Umit. Nel cuore della grande villa Yaman, Umit osserva tutto con occhi pieni di meraviglia. Non aveva mai immaginato che la dimora di Demir potesse essere così maestosa. Mentre si perde nei dettagli architettonici, Zuleya la accoglie con un calore che fa sentire Umit come a casa. Ammine, con il suo sguardo attento, osserva la nuova arrivata, valutandola silenziosamente. L'atmosfera è carica di attesa e di curiosità, e c'è una sensazione di legame che si sta consolidando tra Umit e la famiglia Yaman. La cena promette di essere un momento speciale, in cui la condivisione di emozioni e l'approfondimento saranno al centro dell'attenzione. Continuate a seguire la storia di Terra Amara per scoprire come si svilupperà questa serata e quali sorprese riserverà per i personaggi. Nonostante i suoi problemi di memoria, Ammine riconosce in Umit una donna di sostanza e bellezza. La sua mente, sempre in cerca di opportunità per il futuro, inizia a tessere trame. Sei una ragazza molto istruita e bella, dice Ammine, quindi ti troverò un buon marito. Anzi, ti sposerai con mio nipote Demir, perché siete perfetti insieme. Sevda, sempre pronta a correggere le inesattezze di Ammine, interviene rapidamente per ricordare a tutti che Demir è già felicemente sposato con Zuleya e che hanno due splendidi figli insieme. Con un sorriso indulgente, spiega la situazione di Ammine e chiede scusa per eventuali imbarazzi che la nonna potrebbe aver causato. Umit accoglie con comprensione le parole di Zuleya e apprezza la sua sincerità. Mentre la conversazione prosegue, Umit esprime la sua curiosità su Demir. Zuleya, con un tono leggermente malinconico, spiega che Demir dovrebbe tornare presto, ma non vuole che Umit debba attendere a stomaco vuoto. Quindi, suggerisce di iniziare la cena, permettendo a tutti di godere di un momento piacevole e conviviale insieme. Tuttavia, Umit preferisce pazientemente aspettare, dimostrando rispetto per Demir. Il legame tra Umit e Sevda si rafforza quando Umit si informa sul benessere di Sevda. La gratitudine di Sevda è palpabile e il loro scambio dimostra che, nonostante le circostanze, stanno nascendo nuove amicizie. In seguito, Demir fa il suo ingresso, portando con sé un pacchetto accuratamente avvolto tra le mani. Zuleya lo accoglie con sorpresa e gioia quando scopre che il regalo contiene la sua amata pasta di mandorle da Istanbul. Demir, con un sorriso malizioso, fa notare quanto Zuley ami quella prelibatezza, e la dolcezza del gesto riscalda immediatamente l'atmosfera. Tuttavia, quando Demir posa lo sguardo sulla tavola imbandita, nota una presenza inaspettata, e la sorpresa si dipinge sul suo volto quando riconosce Umit. Un attimo di tensione pervade la stanza mentre Demir cerca di nascondere il suo imbarazzo con eleganza. La situazione si fa improvvisamente complessa, e il modo in cui Demir affronterà questa inaspettata situazione avrà un impatto significativo sulla dinamica tra i personaggi. La storia di Terra Amara si infittisce con nuovi intrecci e colpi di scena, mentre i personaggi devono navigare tra emozioni contrastanti e relazioni complesse. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa situazione inaspettata. Umit, notando la tensione nell'aria, decide di alzarsi e si presenta, spiegando con gentilezza che non voleva imporsi o creare disagi. Demir, recuperando la sua compostezza, rassicura Umit dicendo che è sempre un piacere avere ospiti e che la sua presenza è benvenuta. Nel tentativo di stemperare la situazione, Demir racconta a tutti dell'incontro mattutino con Umit all'ospedale e di come sia stata di grande aiuto per Sevda. Rivolgendosi preoccupato a Sevda, la tranquillizza sul suo stato di salute. Zuleya sottolinea la gentilezza e la professionalità di Umit, affermando che meritava di essere invitata da tempo. Mentre si accomodano a tavola, Demir lancia occhiate furtive a Umit, cercando di decifrare la nuova dinamica. Umit, con un tono di voce basso, rivela quanto le manchi cenare in compagnia di una famiglia. La sua confessione tocca il cuore di Zuleya, che risponde sperando che da quel momento possano diventare amiche. La tensione iniziale si stempera gradualmente e l'atmosfera si fa più leggera. La storia di Terra Amara mette in evidenza la capacità dei personaggi di superare le difficoltà e di accogliere nuove relazioni. Restate con noi per scoprire come evolverà questa nuova dinamica tra Umit e la famiglia Yaman. Sevda, con un tono curioso, chiede a Umit dei suoi genitori, suscitando una conversazione più personale. Umit rivela la perdita di sua madre e Sevda, commossa, le esprime le sue condoglianze. Umit la rassicura dicendo che il tempo ha lenito il dolore. Mentre la conversazione scorre leggera, Sevda nota qualcosa di particolare, i gemelli scintillanti al polso di Demir. La sua domanda innocente mette Demir in imbarazzo, poiché cui gemelli erano un dono personale di Umit. Zuleya, ignara della verità e cercando di proteggere il marito, interviene dicendo che erano un regalo da un partner commerciale. L'aria si carica di tensione e Umit, con uno sguardo penetrante, si rende conto che Demir ha nascosto la verità a Zuleya. Sevda, con la sua intuizione acuta, percepisce il sottile gioco di sguardi e menzogne. Mentre la serata volge al termine, Sevda è sempre più confusa, sospettando che ci sia qualcosa che le è sfuggito. La storia di Terra Amara si fa sempre più intricata, con segreti e tensioni che minacciano di esplodere. Se volete conoscere come Sevda scoprirà la verità e come questa situazione si evolverà, scrivete certo nei commenti e rimanete sintonizzati per il prossimo sviluppo della storia. Nel frattempo ricordatevi di iscrivervi al canale. Grazie, a presto!